Allora, dove siamo? Ancora non sai? No, me l'ho scoperto. Hai scoperto? Allora, vediamo. C'era scritta. Dove è scritto? Scopriamo, vieni. Ok. Allora ragazzi, non possiamo entrare subito perché ogni 15 minuti per entrare. Il prossimo dobbiamo aspettare un'ora e 15 minuti perché è pieno. E allora dovete aspettare un pochettino. Io sto mangiando. Dietro di me. Avete indovinato? Dove andiamo? Che vediamo? Ah, se ancora non sai niente. Non sai niente? Compriamo, vieni. Allora, siamo entrati. Le regole, come vedete, armadette. Dovete togliere le scarpe e le dovete chiudere con un password. Potete entrare in là. Pussate i piedi però, unica cosa. E funziona così, senza scarpe. Nooo. Oddio. 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 vai vai mi vota no 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 sta su tutte disegne E torre abbiamo fatto. Da rossa in Ziafono. Nooo! Camera, stanza rossa. E qui trovate i vestiti rosa, capello, giubbotto, pantaloni e potete fare tante tante divertimento. Andiamo! Da rosso passiamo! Meravigliosa blu! Ma questo è un bagno! Un bagno! Venite! Scusi! Guardate! Avete visto? Non è trinitissimo! Wow! 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 per adesso è la migliore stanza oh mio dio un altro consiglio dovete prendere o dovete mettere maglietta maniche corte e dovete portare cambio è fatica dobbiamo uscire adesso e usciamo entriamo stanza che possiamo scrivere ovunque ovunque allora non si scrive sulla fermento e scriviamo oh non c'è niente stanza possiamo scrivere ovunque oh mio dio è sudatissimo e qui possiamo scrivere potete pulire e potete scrivere ovunque solo il pavimento oh vediamo che scriviamo noi non dimenticare canale fond family travel vlog subscribe and like questo è che siamo usciti adesso entriamo allora scritto prima di entrare pensa come uscire oh ma dove andiamo ovunque oh che bello rosso fucsia rientra rientra sarai dove che hai trovato è qua qua aiutami non si apre di là si ha trovato ha ragione rientra sarai più fortunato arriva arriva risbagliate ma continuiamo di qua noooo non si asce da nessuna parte ma veramente siamo bloccati Ah sia e usciamo allora non troviamo uscita ecco lì abbiamo trovato scena evviva subito entriamo da rosso e giallo vietato non giocare ma veramente evitato a giocare entriamo stanza già patinaggio è secondo me meraviglioso chi vuole fare chi sa patinare io non lo so adesso Asia sceglie prende il suo numero e adesso tocca a voi estanza gonfiabile è regola che non si salta è andato e questo sarà ultima stanza tutto gonfiabile è bellissimo è bellissimo ecco così allora come ultima stanza ho alcune informazioni dove si trova qui a Roma qui vicino vicino al aeroporto c'è un centro commerciale si chiama The Wow ed il pronome sarebbe Falco Leonardo e dentro è online biglietti che adesso non si trova però possiamo abbiamo preso biglietti qui consigliamo venire qui per divertimento però forse cambia è faticoso è bellissimo allora salutiamo ragazzi salutiamo alla prossima volta che ritorniamo sicuramente sì ciao